Sono Marco Brega, sono un architetto e sono il cofondatore di Non Stop Architettura che è uno studio che ha la sua sede a Milano. Partecipare a incontri di questo tipo è fondamentale, un po' perché a partire dai temi che sono stati trattati questa sera, che sono legati allo sviluppo degli impianti sportivi, sia come un'occasione per innescare processi di rigenerazione urbana o come grandi ipotesi di sviluppo per progetti che hanno una scala che riguarda la città e quindi il futuro dell'intera area metropolitana. Per noi è fondamentale perché diventa un'occasione per capire meglio e collocare con più precisione le proprie attività. La progettazione degli impianti sportivi è una delle attività che lo studio coltiva nel proprio paniere di competenze specifiche e quindi è fondamentale riuscire a conoscere e ad avere dei momenti di scambio, anche di comprensione un po' critica di quello che sta accadendo e perché no poi di avere l'occasione di commentare e far crescere la propria conoscenza anche nei rapporti con gli altri professionisti. Sono delle occasioni per noi preziose che vanno sicuramente coltivate e che hanno un'importanza fondamentale e un ritorno immediato sull'attività dello studio e quindi sull'attività professionale. Grazie per la visione!